E veniamo alle notizie da Piazza Affari Milano che resta la più debole tra le borse europee in una incertezza e attesa in vista del discorso di Theresa May al Parlamento Britannico sulla Brexit. Milano cede lo 0,6%, Francoforte lo 0,4%, Parigi lo 0,1% mentre Londra si muove in controtendenza. Inverte la rotta e sale dello 0,2% con la sterlina che recupera terreno su tutte le valute. Lo spread BTP bond si muove attorno ai 250 punti base. Su Piazza Affari pesano Enel al meno 2,6% e Snam al meno 2,1% penalizzate dallo stacco della cedola. Giù anche Ferragamo al meno 2,2% e Tim che si attesta al meno 1,7% penalizzata da Intermonte dopo la revisione dalle stime e il giudizio negativo della Gcom allo scorporo della rete. Male anche Saipem al meno 1,6%, deboli bancari con Ubi Banca fissata a meno 1,2% e Unicredit al meno 1,1%. Dall'altra parte del listino si mettono in luce Juventus che chiude al più 3,7%, Ricordati al più 2,2% e Leonardo al più 1,5%. Erano queste le ultime notizie giunte qui in redazione da Piazza Affari Milano. Da Renato Scano la linea che può tornare alla regia.